www.feyyaz.it Se, se, se Se ragazzo è sto nerdo di colpo Che se io riesco a metterlo qua, andiamo Proviamo? Vai, vai tu Sì Aspetta un attimo Se, se, è schifo Se, se Si, si, si A posto, vai Ti piace questa roba Eh, via Piace la roba Dai, ma va a farlo Sì Potete fare il samba d'orfeo e tristezza Cioè, vi lascio fare il samba d'orfeo Poi arrivo Tristezza Attacca le che ci sono Chi è, chi è? Passi Tristezza Per favore vai via Tanto tu in casa via Non entra mai Cioè, te la accetta e i cani suonano se fiede Vado? Che schifo sto suonare No, 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 no Codice Non, no, 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 no Cioè, te la accetta e i cani suonare 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 1, 2..1, 2..3.. Arrivederci